Buongiorno, sono Stefano. Sono Tullia Dalle Carbonare e mi occupo di fabbricazione di maschere e carabattole per streghe maledette. Ci siamo ispirati al mondo delle streghe, naturalmente, sapendo che, come per tutti i fenomeni del Medioevo, non abbiamo tantissimi documenti a cui appoggiarci. Abbiamo usato molto la fantasia. Anche per le maschere ci si rifà a questi mostri del Medioevo che troviamo nelle miniature, però è una lettura assolutamente moderna, nel senso che abbiamo inventato delle forme che a noi possono ricordare il Medioevo. Sicuramente la tela, appunto, essendo bidimensionale, non ha lo stesso gioco di una maschera, che già di base ha dei volumi diversi che la fanno vivere quasi da sé. Per la tela quello che ho potuto fare è stato cercare di lavorare sui chiaroscuri e soprattutto affidarmi alle attrici che riusciranno ad animare dei disegni senza dimensione.